ragazzi buongiorno come state noi siamo in spiaggia qui in puglia nel frattempo rosi si è fermata con delle ragazze ad accudire dei gatti mentre io sto sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione perché per molti come me oggi comincia il fantacalcio quindi io sono impegnato su due fantacalci devo fare due formazioni che poi adesso vi metto quindi un in bocca al lupo a tutti i fantallenatori quest'anno c'è da portare a casa assolutamente dei risultati quindi cominciamo alla grande ragazzi oggi sono stata assente come vedete sono sola con me non c'è Andrea ho aspettato a dirvelo ieri ho preso questo bouquet che dovrebbe significare che entro quest'anno mi sposo e andrei a scappare a dirvelo ieri ho preso questo bouquet Grazie a tutti.